Quali sono le finalità di questo progetto? Allora, Strada Amica è un progetto che il Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, attraverso l'ufficio decentrato del nostro provvitorato per pubbliche, promuove e svolge nelle scuole già da diversi anni sul tema dell'educazione stradale. Questo progetto, che prende appunto il nome dal libretto Strada Amica, che noi distribuiamo gratuitamente nelle scuole, è quello di far acquisire ai ragazzi la consapevolezza dell'utilità di condividere le regole, migliorare la loro conoscenza dell'ambiente in cui si muovono, quindi i percorsi quotidiani, far aumentare la loro percezione del pericolo. Qual è l'impegno del Ministero? La sicurezza stradale e in particolare l'educazione stradale sono temi a cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedica maggiore attenzione. dal punto di vista didattico il Ministero offre un notevole contributo sia con i progetti di educazione stradale che con le diverse campagne di comunicazione istituzionale attraverso la realizzazione di alcuni video. Da qualche anno è attivo il portale www.edustrada.it, la piattaforma digitale nata con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, del nostro Ministero a cui hanno aderito diversi enti e tratta del tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti e vuole essere uno strumento operativo diretto ad aumentare il convolgimento degli studenti e dei docenti su queste tematiche. Sul portale sono caricati materiali e progetti didattici vari della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero e sono destinati a quegli istituti scolastici che possono accedere ai progetti e scaricare in download del materiale didattico. Il nostro progetto di educazione stradale è Stradamica che ci vede coinvolti attualmente con i Lions Club del territorio in diverse scuole coinvolgendo più di mille ragazzi. Quali sono i risultati di questa collaborazione? Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti sul fronte della sensibilizzazione e se si tiene conto che non ci limitiamo a un intervento educativo diretto ad una mera divulgazione di informazioni ma cerchiamo di coinvolgere gli studenti, soprattutto quelli più grandi attraverso anche la visione di video, di video istituzionali per far leva anche sull'aspetto emotivo. Siamo molto contenti che le istituzioni scolastiche si trovano al nostro fianco in questo progetto che vede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in primo piano intervenire e raccontare ai ragazzi l'importanza e il significato del rispetto delle regole del Codice della Strada. La vostra è un'iniziativa che si è potuta sviluppare grazie all'aiuto di tante persone e anche con la collaborazione di altri Lions Club. Sì, sicuro. Allora, l'iniziativa è nata qui ma ha un'estensione territoriale davvero notevole perché altri Club Lions hanno recepito l'importanza sociale di questa iniziativa e hanno aderito, devo dire, anche con entusiasmo. Siamo in sette, Lions Club Caluso poi c'è il Candialago, i due del Chivasso che sono il Chivasso Ost e il Chivasso Duomo l'Alto Canavese, il Torino Cittadella Ducale e poi la sezione giovanile di Caluso, il Leo Club Caluso. Quindi, come vedete, l'estensione territoriale interessa tutto il Canavese con un'estensione anche su Torino.